Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in questo nuovissimo video e che cosa andremo a fare in questo video? Oggi faremo lo spacchettamento di finanno di Brawl, allora Allora, 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 madonna, ma basta, allora, allora Allora, madonna, ragazzi, ok, come potete vedere c'è qualche cambiamento Cioè che c'ho 9526 trofei Infatti io volevo andare a prendere queste 150 monete con voi Poi c'ho altre 200 monete qua, qua nel Brawl Pass Più è una cassa grande Ma non è finita qua Che come potete vedere da quell'immagine c'è abbiamo pure qualcos'altro Eccola qua, che l'ho trovata da poco, infatti, ancora a livello 1 Allora, andiamo indietro E iniziamo subito a spacchettare Allora, prendiamo queste 150 monete Andiamo indietro Queste 200 monete Ok Questa cassa è grande Via 3 Quindi non mi sembra che c'è niente Becolt Carl E Bull Ah Speravo qualcosa di meglio A che punto è Carl Dove è Carl Ah, eccolo Sono cieco No Vabbè, quindi niente Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdervi nessun mio nuovissimo video che esce E condividete questo video con tutti i vostri amici Se vi è piaciuto E niente, ciao